Verrà interrotta la fornitura idrica nei comuni di Caltanissetta, Butera, Gela e Mazzarina a partire dalle 7 dell'8 giugno. Interruzione necessaria per l'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione lungo gli acquedotti Ancipe e Blufi. Questo secondo l'avviso di Caltacqua a seguito della comunicazione di Sicilia Acque. Per quanto riguarda il comune di Caltanissetta, si legge ci sarà una riduzione di 30 litri al secondo nella fornitura complessiva e non saranno garantite le distribuzioni per le zone H24 e nello specifico Poggio Sant'Elia, Via Pietro Leone, Via Due Fontane, Via Mico Valenti, Via Borremans, zona Firrio e la zona in distribuzione giornaliera denominata Sanatorio, distribuzione regolare su tutte le altre zone. E poi ancora a ritardo nella normale distribuzione di 36 ore nei comuni di Niscemi e Mazzarino, a Riesi non ci sarà distribuzione nella zona alta Serbatoio Ancipa, mentre tutte le altre saranno garantite normalmente. Nel comune di Butera si prevede il fermo per le zone balneari di Tenutella, Desusino, Falconare e Pianomarina.